Inaugura a Villa Franca di Verona, il primo piano in corso Vittorio Emanuele 144, la sede veronese del network Gruppo Garanzia Immobiliare, l'unica agenzia che ti vende casa in 150 giorni o ti paga. Che cos'è Gruppo Garanzia Immobiliare? Non è la classica agenzia. Esatto, non è la classica agenzia immobiliare. Gruppo Garanzia Immobiliare è la prima e unica agenzia immobiliare che ti garantisce la vendita in 150 giorni. Diciamo che vendiamo o ti paghiamo. Quindi il percorso che noi riusciamo a fare è che portiamo il cliente dalla sua situazione attuale allo stato desiderato senza rischi, diciamo con la massima trasparenza, chiarezza e ovviamente soddisfatto o riborsato. L'idea è nata dal bisogno di dare informazioni ai proprietari che vendevano casa sui pericoli del mercato, a volte proprio creati da agenti immobiliari che noi chiamiamo primitivi, che non hanno gli strumenti per affrontare al meglio il mercato. Quindi abbiamo detto come possiamo dare un messaggio forte, fare in modo che si fidino di noi. Abbiamo creato la garanzia, abbiamo cominciato a diffondere il nostro messaggio e il mercato ci ha dato ragione perché abbiamo oggi un flusso di clienti continui che ci chiedono di vendere casa con noi. E la prospettiva futura è molto ambiziosa? Noi arriviamo da un franchising e se avessimo pensato di aprire un network due anni fa ci saremmo messi a ridere. Oggi invece inauguriamo Verona, gennaio Brescia e il piano è concreto e di aprire circa 150 filiali entro il 2024. Penso che Villafranca abbia bisogno di questo metodo innovativo, di una garanzia forte di professionisti come me che cercano di migliorarsi dando valore effettivo al cliente. Avendo già avuto modo di testare con successo il metodo garanzia sono sicuro che riusciremo a dare dei risultati importanti ai venditori. Da oggi è possibile vendere in maniera sicura, protetta e al massimo valore realizzabile. Per maggiori informazioni visitate il sito www.gruppogaranziaimmobiliare.it